Comuni isolati a ridosso della Baia di Sapri. L'ennesima frana sulla strada provinciale 16 ha di fatto chiuso le comunicazioni tra la cittadina saprese e i quattro centri collinari che si inseguono fino a Caselli in Pitteri. E' di questi giorni la chiusura al traffico del tratto compreso tra Sapri e Torraca per via di uno smottamento che ha fatto crollare giù parte della carreggiata. Una interruzione che sta creando enormi disagi alle popolazioni dei piccoli centri collinari che per raggiungere Sapri dove sono ubicati l'ospedale, le scuole superiori e i diversi uffici pubblici devono avventurarsi in percorsi alternativi insicuri ed impossibili da attraversare con gli autobus. Una situazione d'emergenza che è stata ampiamente descritta nell'interrogazione che il consigliere regionale Donato Pica ha presentato questa mattina all'assessore ai lavori pubblici della campagna Edoardo Cosenza. Il paese di Torraca, si legge nell'interrogazione, è ormai isolato da due frane a Monte e a Valle dell'Abitato. Per la messa in sicurezza della strada provinciale 16, chiesta da anni dal territorio, si è mosso anche il PD di Torraca che ha inviato una lettera alle autorità competenti e al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, invitando tutti ad impegnarsi nella cura dell'ambiente prima delle tragedie come quelle relative alle inondazioni e frane avvenute in Sardegna. Il sindaco di Sapri e quello di Torraca hanno già allertato la protezione civile e chiesto interventi di sommo urgenza, almeno sul tratto recentemente franato, per chi è a ridosso del vallone Ischitello che sfocia nel centro abitato di Sapri. Una eventuale ostruzione del canale potrebbe essere causa, come accaduto in passato, di allagamenti nella cittadina saprese. Il Comune ha già impegnato gli uomini della protezione civile e i volontari nel monitoraggio di tutte e quattro le assi torrentizie che attraversano la città. Grazie. 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 Grazie.